Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere volete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi una storia particolare, infatti tratteremo un serial tutto italiano, ossia Andrea Matteucci. Andrea nasce a Torino il 24 aprile del 1962 in una condizione familiare che non è per niente facile. Suo padre, che Andrea nemmeno riesce a conoscere perché abbandona il nido familiare dopo la sua nascita, è un operaio con precedenti penali per furto e ricettazione. Mentre sua madre Maria, originaria di un piccolo paese in provincia di Foggia, ha avuto problemi con la giustizia già da minorenne. Aggredì una ragazza, sua rivale in amore e successivamente ferì il proprio ex fidanzato perché è deciso a terminare la relazione. Ciò le costò due anni di detenzione. Inoltre Maria fa la passeggiatrice, lo fa da sempre ed è solito accogliere i clienti in casa. Per questo motivo non può occuparsi di Andrea che piange e, come tutti i bambini, fa i capricci. La madre è consapevole di non avere la possibilità di accudire al meglio il piccolo Andrea, dunque lo affida alla sorella. Zia Lina è una donna foggiana, amorevole, che tiene però nascosta ad Andrea la sua vera identità. Infatti il bambino è totalmente convinto che quest'ultima sia la sua vera madre. Quindi Andrea vive sereno e spensierato fino a cinque anni. È un bambino sano e del tutto nella norma, ma le cose cambiano quando un giorno a casa di zia Lina si ripresenta Maria. Andrea non ha ricordi di quella donna, è una sconosciuta che dice di essere la sua vera madre, eppure pretende di portarlo via da quella che a tutti gli effetti era casa sua. Lina non può fare nulla, dopo tutto si trova davanti la madre biologica di Andrea e s'arrende guardando il piccolo andarsene via ad Aosta. Le brutte sorprese non finiscono. Maria non ha intenzione di tenere il figlio con sé, bensì lo reclude in un collegio dove resterà fino ai nove anni prima di finire in un secondo istituto che lo accoglierà fino alla fine delle elementari. Andrea non si trovava poi tanto male nel primo istituto, ed anche il secondo è piuttosto accogliente, ma detesta il fatto di non poter restare a dormire in collegio. Infatti è costretto a tornare a casa dove sua madre persevera nel lavoro di passeggiatrice. L'edificio in cui alloggio è talmente angusto, piccolo, che il ragazzino è costretto ad assistere alle sue performance. Ma questa non è l'unica problematica che sorge. Maria convive con un uomo violento e collerico che spesso mette le mani addosso ad Andrea. E non solo lei non fa nulla per difendere suo figlio, ma lo aggredisce pure verbalmente, umiliandolo con nomignoli come coniglio oppure cagone. Sottolinea spesso la sua somiglianza con il padre, quel padre che Andrea però non ha mai conosciuto. Dopo aver atterrito il figlio, la signora è solita ingozzare il proprio ego con frasi del tipo Io sono quella che ha mantenuto la famiglia, io porto i soldi a casa, io sono una donna forte. E quanto spesso lo sottolinea ad essere una donna forte? Così forte d'aver ucciso due persone, avete capito bene, dice proprio questo. Racconta d'aver sparato in fronte ad una sua collega che aveva sparlato di lei ed aver tagliato l'attrezzo di sotto ad un cliente che si era rifiutato di pagarla. Racconta pure d'aver impiccato il cane della vicina perché quest'ultima le stava davvero antipatica. La signora Matteucci ripete fino alla nausea questa storia ad Andrea sottolineando che lui non ci sarebbe mai riuscito vista la sua condizione di coniglio cagone. Quindi la signora Matteucci che classificherei come madre dell'anno insegna a suo figlio di 10 anni che uccidere il prossimo, l'omicidio, è una forma di potere. Se compie un omicidio allora sì che sei una persona forte. Andrea ha un carattere tranquillo e anche alquanto timido, ecco perché è sua madre. Si prende gioco di lui e in pratica lo bullizza iniziando lentamente a distruggere la sua psiche che fino a quel momento si era dimostrata addirittura stabile e bilanciata. Questo fantastico quadro familiare vede anche la nonna di Andrea, una persona sicuramente problematica. Infatti sostiene che bevendo aceto riesca a comunicare con i morti. Avete capito? Altro che sedute spiritiche. Qui basta l'aceto. Il rapporto tra la nonna di Andrea e la madre non è idilliaco. Infatti Maria pensa che sua madre sia posseduta dunque tende a imbottirla di farmaci e ad alzarle spesso le mani addosso prendendola a pugni sulla testa. Si spinge così oltre che presto la donna anziana muore ed il decesso risulta per cause naturali ma Andrea dirà sempre che è convinto che sua nonna sia morta più che altro per l'incuria e le botte. Il tempo passa e Andrea cresce iniziando a compiere le prime marachelle. Infatti a 13 anni assieme ad un suo coetaneo rubano una bicicletta. Andrea però si rende conto subito dopo il misfatto d'aver paura. È terrorizzato all'idea che i carabinieri possano scoprire il furto. Per questa ragione il suo amico gli offre uno scambio. Questi gli avrebbe lasciato la sua bicicletta personale in cambio di quella rubata. Andrea accetta e torna a casa con la bicicletta dell'amico a cuor leggero. Eppure il suo patrigno che nota la nuova bicicletta decide di aggredirlo, di riempirlo di botte e di trascinarlo attorno al suo paesino urlando a tutti che Andrea è un ladro. Non importa quanto Andrea provi a dire che non ha assolutamente rubato nulla e che quella bici sia del suo amico. L'uomo continua nel suo gioco umiliante. Andrea per la prima volta nella sua vita a seguito di questa forte umiliazione si arrabbia da morire e prova una sensazione incontinibile per la prima volta. Una sensazione che l'avrebbe poi accompagnato per il resto della sua vita. L'esigenza di uccidere. A 14 anni Andrea fa una sciocchezza. Entra in una macelleria con una pistola a scacciacani. Non è da solo, ci sono anche dei suoi amici che però si limitano a fare il palo. Andrea fa il suo ingresso dicendo Fermi tutti, questa è una rapina! Ma anche questa volta, ammisfatto terminato, i sensi di colpa per il ragazzino sono così laceranti che dopo una settimana si costituisce da solo alla polizia. La sua famiglia a questo punto lo caccia di casa ma non tanto perché abbia commesso un reato bensì perché la signora Matteucci, sua madre, non vedeva l'ora di liberarsi del figlio. Andrea si ritrova senza una dimora a 14 anni quindi il tribunale dei minori lo affida ad una comunità. Una comunità in cui si trova davvero bene, si inserisce e lega molto con i suoi compagni. Sono 4 anni davvero sereni ma purtroppo arrivata la maggiore età il ragazzo è costretto a tornare a casa sua o a trovarsi un altro posto. Andrea non vuole certamente tornare da quella che io definirei a cuor leggero quel mostro di madre. Appena uscito dalla comunità religiosa dunque Andrea trova lavoro come meccanico a Carr un comune vicino ad Aosta. La madre Maria ovviamente continua ad umiliarlo perché non guadagna abbastanza insomma lei guadagna molto di più. A questo punto in Andrea si instilla il desiderio di dimostrare sia a se stesso che a sua madre che lui non è un coniglio. Arriviamo quindi al 1980. È una sera tranquilla d'estate e un uomo di mezza età di nome Domenico Raso sta passeggiando in una zona appartata nel centro di Aosta sotto le rovine dell'arco di Augusto. Quello è un posto buio, un po' nascosto. È deserto a quell'ora ed è frequentato da chi vuole incontrare qualcuno con discrezione. Domenico infatti è omosessuale e lì cerca qualcuno per un incontro intimo. È proprio lì che incontra Andrea, un bel ragazzo, giovane, che l'attira subito. Lo avvicina e i due iniziano a chiacchierare. Andrea dice a Domenico d'essere da Aosta e che è finito in comunità per una sciocchezza che aveva fatto a 14 anni. Ma ora è uscito, è libero. Al signor Domenico Andrea piace dunque gli domanda se abbia voglia di andare con lui dietro al monumento sotto l'arco dove nessun occhio indiscreto può arrivare. Andrea accetta come accetta di avere un rapporto con lui ma non appena Domenico gli si avvicina il diciottenne lo colpisce con un pugno in pieno viso lo afferra per i capelli e sfilato un coltello da boy scout dalla cintura glielo pianta nella schiena. Il coltello si incastra fra le vertebre dell'uomo e non si sfila più. Resta del tutto incastrato. Andrea quindi lascia cadere a terra il signor Domenico e cerca di allontanarsi ma ha fatto pochi passi quando l'uomo comincia a gridare e Andrea lo sa è questione di attimi e qualcuno sentirà il frastuono. Per questa ragione il diciottenne decide di avvicinarsi nuovamente al signor Domenico e con forza riesce a strappare via il pugnale. Con esso poi rincomincia a colpirlo ripetute volte al petto e alla schiena. Si ferma solo quando il signor Domenico esclama Adesso basta! Sono già morto! E in effetti è vero. Dopo pochi secondi Domenico smette di respirare. Andrea quindi si allontana dall'arco di Augusto getta il coltello nel primo cassonetto che trova e scappa. A Osta non è un posto per serial. A Osta non è nemmeno un posto per gli omicidi. La criminalità organizzata c'è ma non si avverte e gli omicidi che avvengono sono davvero pochi e dopo essere rimasti sulle prime pagine dei giornali scompaiono e vengono quasi dimenticati. Succede così anche per Domenico. Andrea è terrorizzato. Teme di finire in carcere ma non viene scoperto. Quello che ha fatto peraltro non lo lascia affatto indifferente. Soprattutto quando legge sul giornale che l'uomo aveva due figli. Si sente incredibilmente in colpa perché i bambini secondo Andrea non devono essere abbandonati. Lui sa come ci si sente a non avere un padre accanto e una madre che lo detesta. Fa spesso degli incubi Andrea giura a se stesso che non l'avrebbe fatto mai più. Questo è un atto da rimuovere dalla sua mente da dimenticare completamente. Nessuno lo cerca. Nessuno gli fa domande quindi il caso è chiuso. A distanza di qualche mese arriva la chiamata al servizio di leva e Andrea parte. Vuole andare il più lontano possibile da casa. Dunque fa domanda per entrare nei paracadutisti. Viene preso e va a Livorno. Anche in questo ambiente Andrea sta bene. Aosta è un paese ormai lontano e Livorno ha un'area frizzantina che sa di libertà. Rimane per un anno in quella città portuale e fa il baregliere fino a congedarsi col grado di caporal maggiore. Fare il militare gli piace tanto che al momento del congedo pensa di firmare per la ferma prolungata e rimanere in servizio. Ma vista la fretta alla fine cede e firma il congedo convinto di poter tornare dopo qualche tempo e richiedere il prolungamento del servizio. Cosa che scoprirà non essere fattibile per via di lunghe trafile burocratiche. Andrea a questo punto rinuncia e torna a casa ad Aosta. Una volta a casa Andrea va ad una festa con degli amici e incontra una ragazza si chiama Daniela ed è un amico a presentargliela. I due iniziano a frequentarsi poi nel 1983 i due convolano nozze. Vanno a vivere prima a Saint-Pierre poi a Sar un paesino vicino ad Aosta e molto vicino alla casa della signora Matteucci la madre di Andrea. Alla fine si stabiliscono a Villeneuve dove Andrea trova lavoro come commesso in un negozio di alimentari. Nel 1987 nasce il loro primo figlio Christian. Andrea a questo punto conduce quella che sembra essere una vita normale a una moglie un figlio un lavoro sembra che Andrea abbia completamente dimenticato quel delitto compiuto anni prima. È riuscito a separarsi da quel ricordo come se quell'atto tanto efferato fosse stato commesso da un'altra persona. Le cose però iniziano a cambiare. Il lavoro di commesso ad Andrea non piace non lo gratifica quindi decide di imparare il mestiere dello scalpellino. È un mestiere duro che permette ad Andrea di sviluppare una determinata fisicità. Non è più un ragazzino mingerlino di un tempo ora Andrea è un uomo possente. Inizialmente lavora sotto padrone che gli insegna il mestiere poi decide di aprire un laboratorio ad Arvie. Il problema è che il lavoro non va bene a lui piace ma non riesce a guadagnare molti soldi e questa situazione crea tensioni anche nel matrimonio. Andrea e sua moglie litigano sempre più spesso Daniela lo rimprovera perché non porta a casa abbastanza soldi perché non le fa vivere una vita che lei reputa dignitosa. Non hanno più rapporti tra l'altro si mettono in mezzo anche i suoceri che danno ragione alla figlia chiaramente. Le liti sono tante e spesso uno dei due se ne va di casa per poi tornare e rincominciare da capo con il pretesto di tenere la famiglia unita per il bene del figlio. Andrea si ritrova dunque al punto di partenza a una donna a fianco che in breve gli dice che non è buono a fare nulla che non guadagna abbastanza esattamente come sua madre. Andrea sopporta tenta di farlo ma i continui litigi con sua moglie lo sfiniscono. Una sera del 1992 quindi dopo un'ennesima discussione con sua moglie Andrea esce con l'idea di cercare una passeggiatrice con cui sfogarsi per Andrea frequentare le passeggiatrici è ormai una routine da molto tempo questa volta però ha con sé un'arma una pistola che spara un pallettone utile per uccidere le mucche Andrea l'aveva comprata in uno dei tanti momenti in cui pensava di cambiare lavoro mettere su un allevamento di mucche per esempio Andrea passa da Brissonne a bordo del suo furgoncino quando vede una ragazza che gli piace parecchio è bionda con gli occhiali si chiama Daniela ed è torinese i due si appartano ma Andrea è troppo arrabbiato e quindi proprio non riesce non ce la fa inoltre Daniela non è molto gentile lei sta lavorando e non ha intenzione di perdere tempo a consolare il primo che passa fa dunque notare all'uomo che le sta solo facendo perdere del gran tempo e vorrebbe essere riaccompagnata al solito posto dove lavora Andrea vorrebbe parlarle fare quattro chiacchiere ma Daniela no sta lavorando ed ha una certa fretta così l'uomo obbedisce e riporta Daniela al marciapiele dove l'ha incontrata ma quando se ne va non riesce a smettere di pensare ai modi bruschi della donna a quanto sia stata sbrigativa poi passa a riflettere sulle passeggiatrici in generale e questa riflessione gli evoca il ricordo della madre le passeggiatrici sono tutte uguali si dice volgari ricattatrici e capaci solo d'umiliare con il fuoco nel sangue alimentato da questi sproloqui torna indietro e chiede a Daniela se abbia voglia di riprovarci purtroppo è una serata spenta per Daniela pochi clienti e i soldi le servono dunque accetta di salire su quel furgone che inizia a sfrecciare alla ricerca di un luogo appartato ma non appena questo si ferma Andrea pone a Daniela una strana domanda gli chiede hai figli a casa? non capisce la donna e scuote il capo no non ha figli allora Andrea estrae la pistola da macello e puntata verso la fronte della donna esplode un colpo Daniela è tenace molto tenace non muore ma si ritrova ferita confusa ed enormemente terrorizzata riesce solo a pregare l'uomo che è accanto il suo carnifice di portarla in ospedale Andrea le dice di non preoccuparsi mette di nuovo in moto il furgone ma al posto di portarla all'ospedale la porta in un posto ancora più appartato dove finge di aiutarla per uscire dal furgoncino ma le spara un'altra volta alla testa Daniela questa volta muore sul colpo Andrea mette così in atto un circolo vizioso d'odio e si ritrova ad imitare la madre che nei suoi racconti decantava ad aver ammazzato una collega proprio con un colpo di pistola in fronte non è la prima volta che l'uomo si ritrova in compagnia di un corpo morto ma mentre Domenico era stato lasciato cadavere a terra Daniela va fatta sparire non vuole assolutamente essere scoperto ora è lui ad avere moglie e figli Andrea non sa esattamente cosa fare o come fare per liberarsi del corpo di Daniela ma decide di caricarlo sul furgone per portarlo ad Arvie nel laboratorio dove lavorava come scalpellino e che ormai da tempo è chiuso al pubblico lì scava una fossa e vi adagia il corpo della povera Daniela non contento le ruba anche tutti i gioielli intenzionato a regalarli alla moglie lo so cosa state pensando ma come siglia è uscito ha fatto tutto questo macello perché aveva litigato con la moglie e ora le porta a casa dei gioielli sì perché ormai la rabbia che Andrea covava è scivolata via non c'è più l'Andrea del primo omicidio l'Andrea agitato in pieno panico e attannagliato dai sensi di colpa ora esiste un'Andrea che prova una piacevolissima sensazione al pensiero di aver fatto pulizia di una persona indegna tornato a casa Andrea dà la moglie ai gioielli rubati le domanda scusa dice d'essersi chiarito le idee e cerca di lasciarsi tutto alle spalle ma ci pensa e ci ripensa il cadavere di Daniela ha paura che qualcuno possa scoprirlo dopo tutto è seppellito proprio in una sua proprietà decide dopo poco meno di un mese dall'omicidio di dissepellire il cadavere di Daniela per farlo a pezzi in laboratorio e chiuderlo in un bidone che prova a bruciare con più tentativi riuscendo solo dopo aver perforato il rivestimento in modo che la reazione facilitasse le fiamme dopo otto ore di Daniela non resta altro che cenere cenere che Andrea disperde in una discarica come segno d'ultimo sfregio verso quella donna che tanto le aveva ricordato sua madre ad aprile del 1992 Andrea e sua moglie Daniela si separano il figlio che ha 5 anni rimane con sua madre l'uomo dunque trova un altro appartamento sempre a Villeneuve e va a vivere da solo ed è proprio in questo periodo che nella vita di Andrea avviene una svolta suo padre quello naturale che mai aveva conosciuto lo ricontatta affermando di essere sulle sue tracce ormai da 30 anni aveva avuto dei guai con la giustizia e ci tiene a precisare che non se ne era andato di casa di sua spontanea volontà bensì era stato arrestato e una volta libero Maria la sua ex moglie le aveva impedito di rivedere Andrea il trentenne spiega a suo padre che è stato praticamente fino ai suoi 18 anni in diversi collegi che non ha mai vissuto veramente con sua madre quindi il più vecchio dei due risponde che in ogni caso non era mai riuscito ad ottenere informazioni su dove trovarlo afferma però di voler rincominciare a ricostruire un rapporto con lui gli dice che ha un lavoro in Puglia e vuole che Andrea vada giù con lui a Terlizzi in provincia di Bari per aiutarlo a fare il camionista Andrea accetta l'offerta accettando pure di dare tutti i suoi risparmi al padre in modo che possa procurargli un posto in cui stare si fida è felice di poter rincominciare da capo una vita normale ma arrivato in Puglia si rende conto presto che il lavoro che gli ha promesso suo padre non è proprio come Andrea se lo aspettava anzi bisogna dire che non è proprio un lavoro il signor Matteucci infatti ha un magazzino in cui ricetta camion rubati li svuota del carico e li smonta per riciclarli sul mercato ovviamente ad Andrea quel lavoro non piace vorrebbe tornarsene indietro e lasciar perdere ma ormai suo padre lo ha incastrato non ha più nessun risparmio da parte e non ha un posto in cui tornare Andrea scopre che suo padre non era da Osta per cercarlo ma perché in un certo senso il camionista lo fa infatti stava facendo spola tra Osta e Terlizzi alla ricerca di camion da rubare c'è però anche una cosa positiva che lega Andrea a Terlizzi il padre è sposato con una donna che ha una figlia da una precedente relazione si chiama Anna Maria e Andrea se ne innamora la conosce le piace e decidono di impegnarsi in una relazione prestato dunque dalle esigenze economiche e dai legami sentimentali Andrea accetta definitivamente di fare quel lavoro per suo padre ruba camioncini e furgone ad Aosta e li porta fino al deposito di suo padre in Puglia ma ci resta poco in quella città perché decide di andare a convivere con Anna Maria e di stabilirsi nuovamente ad Aosta convinto che portare via la sua ragazza da quella bruttaria sarebbe stato positivo inoltre per via di quel lavoro come camionista a Terlizzi ci sarebbe tornato molto spesso la pace per la novella coppia dura pochissimo dopo una manciata di mesi la suocera di Andrea nonché compagna del padre inizia a rivoltare la figlia contro il fidanzato sottolineando quanto Andrea sia un poveraccio buono a nulla un omuncolo da quattro soldi capace solo di far mancare ogni genere di bene alla figlia la rivorrebbe dunque a casa con sé Andrea quindi si ritrova non solo incastrato in un lavoro che detesta ma ancora circondato da figure femminili dedite a farlo sentire uno straccio visto che anche la fidanzata comincia presto ad aizzarsi contro di lui credo sia incredibile come Andrea Matteucci nella sua vita abbia sempre ritrovato gli stessi schemi imposti da sua madre la prima a considerarlo un buono a nulla perché non guadagnava proprio come la sua ex moglie la sua ex suocera eppure come Anna Maria e la nuova compagna del padre è un circolo vizioso da cui proprio non riesce ad uscire il destino gli ripresenta sempre quello stesso trauma ancora e ancora sembra prendersi gioco di lui arriviamo ad agosto del 1994 Andrea è a casa sua a Villeneuve ed è davvero incazzato come una iena come già in passato aveva fatto va a cercare una passeggiatrice questa volta con una pistola in tasca una pistola vera non vuole fare cose intime stavolta no lui vuole mettere alla prova una donna vuole vedere se questa sia gentile nei suoi confronti o se si dimostri fredda proprio come tutte le altre Daniela in effetti era stata a suo avviso sgarbata con lui ma Andrea non prende minimamente in considerazione il pensiero che quelle donne stanno a tutti gli effetti lavorando per guadagnarsi da vivere e mica per del divertimento quindi esce a bordo di un ape piaggio e sulla strada che da Villeneuve va a Chambave vede una ragazza che gli piace molto si chiama Clara e accetta immediatamente di salire nell'ape con lui Clara non è gentile come Andrea vorrebbe gli mette fretta lo mette in soggezione ed è sbrigativa i due hanno anche un rapporto completo ma Andrea non è soddisfatto affatto vorrebbe fare quattro chiacchiere ma Clara esattamente come Daniela ha fretta Andrea rivive la stessa cosa che ha vissuto con sua madre si ritrova davanti una passeggiatrice che si rifiuta di parlare con lui perché deve lavorare deve andare con altri clienti lo deve lasciare solo proprio come fece sua madre quando a cinque anni lo mollò in un collegio come fosse un pacco postale per non averlo tra i piedi Andrea però questa volta prova ad insistere le dice che ora devono parlare che lui ha bisogno di parlare ma Clara ripete sempre la stessa cosa o ti fai un altro giro e mi paghi oppure mi riporti dove mi hai trovata perché io devo lavorare i due quindi litigano Clara comincia ad urlare e a dire parolacce quindi lui la colpisce al volto con un pugno ma è solo l'inizio perché estrae poi la pistola e le spara in fronte per ben due volte non vuole ferirla e basta la vuole morta e lo vuole subito Andrea ora è lì con l'ennesimo corpo senza vita accanto su quell'ape guarda la donna per circa un'ora prima di decidere di avere nuovamente un rapporto con lei torna poi a casa sulla sua ape e trascina Clara nella sua cucina lì con un coltello le taglia testa gambe e braccia per poi portare tutto ancora in quel laboratorio chiuso ormai da molto tempo utilizza poi lo stesso modus operandi che aveva utilizzato per far sparire il cadavere di Daniela chiude il cadavere in quello stesso bidone di latta apre una finestrella nella lamiera e usando la legna brucia il corpo che in poco meno di sei ore è ormai cenere Andrea tiene le ceneri in casa nascoste per una notte poi va sulla Dora e dal ponte di Villeneuve le disperde sull'acqua del fiume Andrea a questo punto è ufficialmente un serial ha ucciso tre persone e i periodi di crisi cominciano a diventare un'abitudine arriviamo al 10 settembre 1994 Andrea sta percorrendo la statale con la sua Fiat 1 questa volta è a caccia vede una passeggiatrice all'altezza di Ness un altro paese dei dintorni la ragazza si chiama Lucy la convince a salire a bordo e anche a seguirlo fino a casa dove consumano un rapporto completo poi risalgono sulla macchina perché Lucy chiede di essere riaccompagnata al suo posto a Nuss ma Andrea ha piani ben diversi e guida fino ad Arvie proprio nel suo laboratorio Lucy ovviamente è sorpresa ma anche spaventata conosce la strada ed inizia subito a temere che quell'uomo la voglia uccidere e infatti Andrea ha proprio questa intenzione ma questa volta non usa la pistola bensì cerca di soffocarla con un cuscino Lucy però è forte potentissimo e si divincola resistendo anche quando l'uomo cerca di soffocarla con uno straccio lo scaccia via se lo leva di dosso e sono inutili i tentativi che Andrea fa Lucy ce l'ha fatta Lucy è scappata nell'aprile del 1995 Andrea viene fermato da una pattuglia della polizia stradale alla guida di un'auto rubata ma evita la prigione cavandosela con l'imposizione dell'obbligo di firma a Saint-Pierre passa dunque qualche mese e Andrea decide di chiudere la relazione con Anna Maria si è innamorato di un'altra donna di nome Anna e sembra strano da dire ma con lei trova una sorta di pace ci sta bene è una donna bilanciata non lo umilia e non cerca mai lo scontro ma ormai l'uomo è a un punto di non ritorno Andrea uccide perché ama uccidere arriviamo al 12 maggio del 1995 quando Andrea passa per la strada che va ad Arna con un furgone è pomeriggio ma le passeggiatrici che solitamente stanno lungo la statale ci sono già Andrea ne vede una che gli piace è una ragazza che si fa chiamare Albana l'uomo si ferma per far salire in macchina Albana che accetta di seguirlo in una stradina isolata dove consumano un rapporto nel furgone tutto va bene Andrea paga e la riporta sul luogo di lavoro ma poco dopo intorno alle 18 Andrea torna da Albana le dice che gli è simpatica che si è trovato bene con lei e vuole avere un altro rapporto Albana quindi sale nuovamente sul furgone i due si appartano ma questa volta Andrea vuole qualcos'altro vuole parlare lei comincia ad aver fretta ad arrabbiarsi vuole essere riportata indietro ma Andrea si rifiuta di riaccompagnarla quindi Albana inizia ad urlare e Andrea le tira uno schiaffo la spinge fuori dal furgone e la colpisce alla testa con una chiave inglese per quanto la ragazza cerchi di difendersi e provi a scappare non ci riesce Andrea recupera un coltello dal furgone e la colpisce cinque volte prima di tagliarle la gola a questo punto rimette il corpo sul furgone per tornare indietro ma si rende conto di non avere molta benzina quindi si ferma per fare il pieno a un distributore con il corpo di Albana ancora a bordo appena si fa buio l'uomo torna a casa su Avilneuve e trascina Albana in uno stanzino dopo circa otto ore decide di avere ancora una volta un rapporto con lei successivamente le strappa una catenina dal collo per regalarla alla sua compagna il problema è che Andrea deve portare un camion rubato a Terlizzi non ha tempo per andare a liberarsi del corpo quindi quella notte parte per la Puglia lasciando il corpo della povera Albana in casa sua torna ad Aosta dopo ben cinque giorni il 17 maggio il cadavere di Albana è ancora lì ma ormai è necessario che se ne liberi utilizza il solito modus operandi la fa pezzi e chiuse in sacchetti di plastica la porta in quel laboratorio degli orrori dove la brucia in quel bidone sbarazzandosi anche degli stracci che ha utilizzato per pulire lo stanzino dove l'aveva tenuta rinchiusa Albana nel giro di cinque ore è cenere cenere che viene gettata nella Dora dopo poco più di un mese Andrea finisce dietro le sbarre un uomo ha testimoniato contro di lui lo ha visto caricare Albana in macchina prima che quest'ultima scomparisse i carabinieri rintracciano il suo furgone e individuano delle tracce di sangue appartenenti alla ragazza inoltre Lucy l'unica che è riuscita a scappare dalle sue grinfie ha fatto una denuncia ai carabinieri dando anche una descrizione di Andrea aveva avuto il tempo di vedere bene quel viso il 26 giugno del 1995 Andrea Matteucci viene arrestato e di conseguenza interrogato all'inizio cerca di difendersi sostiene che lui quella donna Albana non l'ha mai vista in vita sua ma i carabinieri lo prestano per tutta la notte finché Andrea non dice che sì è vero Albana l'ha vista la sera in cui è scomparsa ma in realtà non ci ha fatto niente neanche l'ha fatta salire sul suo furgone giustifica le macchie di sangue dicendo che la passeggiatrice si è appoggiata al suo furgone dopo essere stata picchiata da un cliente precedente la versione dettata da Andrea chiaramente non convince i carabinieri che continuano a pressarlo fino a che non crolla ammette di averla uccisa ma aggiunge che è stato un incidente Andrea spiega di averle dato una spinta che l'ha fatta cadere così Albana ha battuto la testa su un sasso morendo sul colpo anche questa versione ovviamente non regge dalle contraddizioni di Andrea ed ha un confronto con casi precedenti non risolti salta fuori addirittura un collegamento con un vecchio omicidio avvenuto negli anni 80 ossia l'omicidio di Domenico Raso riescono poi a collegarlo anche agli omicidi di due passeggiatrici avvenuti nel 92 e nel 94 Daniela e Clara e poi c'è anche il tentato omicidio avvenuto appena sette mesi prima quello di Lucy che peraltro aveva sporto denuncia quindi viene richiamata dai carabinieri e interrogata Lucy conferma tutto e a questo punto Andrea crolla ammettendo tutti e quattro gli omicidi è vero è lui il colpevole è lui il serial delle passeggiatrici la perizia psichiatrica su Andrea Matteucci viene ordinata dal pubblico ministero Pasquale Longarini a far parte del collegio per itale sono il professor Francesco Bruno dell'università La Sapienza di Roma il professor Anselmo Zanalda dell'università di Torino e il dottor Paolo De Pasquali uno psichiatra cominciano ad esaminare Andrea nel luglio del 1995 nel carcere di Aosta dove è recluso hanno di fronte un uomo di 33 anni ordinato nell'aspetto e nell'abbigliamento che solo al momento dell'arresto era apparso in uno stato ansioso con una modesta confusione mentale e molto insicuro poi nonostante sia sottoposto al regime di massima sicurezza non ha mai manifestato comportamenti antisociali né ha mai lamentato sintomi psicopatologici specifici Andrea è un uomo sano è tranquillo è alto 180 centimetri pesa 86 chilogrammi ed è negativo al test dell'HIV è disponibile e collaborativo nei confronti degli esaminatori che lo descrivono come adeguato e sintonico non diffidente né ossequioso Andrea parla volentieri racconta tutto ciò che ricorda ma non lo fa subito bensì ricostruisce gli eventi colloquio dopo colloquio aggiungendo dei dettagli nuovi ogni volta eppure quando si tratta di descrivere i momenti più scabrosi si confonde nasconde dei particolari si mostra ansioso eppure alla fine dice tutto quando parla di ciò che ha fatto nella sua vita mostra sentimenti contrastanti come il rancore quando parla della madre e del patrigno talvolta sprezzo nel narrare delle vittime che considerava prive di dignità e comprensione umana nel ricordare gli omicidi invece diviene freddo e duro senza dimostrare sentimenti di rimorso o colpa mostra dispiacere solo nei confronti degli eventuali figli e figlie delle vittime quando parla della madre Andrea dice cose vere e false che siano strane e senza dubbio interessanti infatti Andrea dice esattamente queste parole lei mi diceva che aveva fatto il patto di sangue con satanic che le parlava con la coda le zampe io tra me e me le rispondevo mentalmente che avevo fatto il patto con Dio e tutte le persone come lei le avrei tirate e gettate via come erbacce e anche quando parla degli omicidi Andrea dice cose interessanti soprattutto dal punto di vista psicologico il signor Domenico l'ha ucciso per una prova di coraggio perché in quel periodo si sentiva sempre pauroso aveva paura a stare da solo e aggiunge che fino a poco tempo prima aveva avuto l'insana ed ossessiva paura che qualcuno lo rapisse durante la notte per questa ragione dormiva supino pensava già di uccidere qualcuno da due o tre anni prima di incontrare il signor Domenico anche se la sua coscienza gli aveva sempre detto che era una cosa sbagliata quando ricorda l'episodio dicono i periti che Andrea gesticola ripetendo i movimenti compiuti in quella circostanza appare freddo poco emozionato e piuttosto distaccato nei confronti della vittima si sofferma più sulle difficoltà pratiche dell'uccisione che sulla visione umana delle vittime dopo aver ucciso la prima passeggiatrice Daniela Andrea dice di aver sentito il piacere di aver fatto pulizia di una persona indegna se avesse avuto figli dice non l'avrebbe fatto ma tutte le passeggiatrici che ha ucciso non avevano generato aveva controllato apposta poi aggiunge che le ha uccise per non permettere loro di avere figli visto che non avrebbero avuto tempo per loro e qui ritorna il suo trauma quello di sua madre negligente insofferente senza tempo né amore da dare per quanto riguarda Clara i periti notano che il racconto è freddo trappela una partecipazione emotiva improntata alla rabbia al risentimento come nel precedente delitto anche nel caso di Albana il racconto di Andrea si sviluppa in modo sintetico con scarsa partecipazione emotiva Andrea non dimostra rimorso per ciò che ha fatto non appare afflitto da senso di colpa il professor Bruno il professor Zanalda e il dottor De Pasquale incontrano Andrea cinque volte tra l'agosto e il settembre del 1995 al termine dei colloqui quando l'uomo si congira dalla sua mimica facciale secondo i periti trapelava una notevole apprezzione era evidente in lui la speranza di essere riuscito a fornire una buona impressione cosa del resto comprensibile in considerazione della sua attuale posizione giuridica della quale il periziando si rende perfettamente conto Andrea sa perfettamente che il suo futuro è nelle mani dei periti è il secondo punto indicato dal PM Longarini nella richiesta di perizia psichiatrica che dice è necessario sapere se Matteucci Andrea al momento dei fatti di cui sopra fosse o meno per malattia o altra infermità in tale stato di mente da escludere o da scemare grandemente senza escluderla la capacità di intendere e volere e dunque se i disturbi psichici abbiano inciso sulla capacità del soggetto di comprendere il significato del comportamento delinquenziale posto in essere secondo schemi abituali di pensiero e di autodeterminarsi e in quale misura relativamente agli articoli 88 e 89 del codice penale Andrea è accusato di 4 omicidi compiuti con particolare e ferratezza quindi se viene considerato in grado di intendere di volere e pienamente responsabile rischia 4 ergastoli per i periti si può escludere che il periziando sia affetto di cerebropatie o deficit intellettivi si può altresi escludere che egli sia affetto da infermità qualificabili come psicosi in quanto per ciò che è a nostra conoscenza nel corso della vita egli ha sempre mantenuto un contatto con la realtà ed una capacità di rapportarsi agli altri senza aver presentato deliri o allucinazioni al punto di essere in grado di conservare un'attività lavorativa va detto però in positivo che il Matteucci non è scevro da disturbi psicopatologici poiché si sono evidenziati sintomi circoscrivibili nei seguenti ambiti disturbo depressivo non altrimenti specificato disturbo del controllo degli impulsi disturbo di personalità misto con manifestazioni schizzoidi dipendente e ossessivo compulsiva il periziando ha sempre dichiarato di bruciare i cadaveri allo scopo di farne perdere le tracce tuttavia il prolungato ricorso al fuoco e la soddisfazione provata nell'incendiare i corpi lasciano pensare che nel soggetto si riscontri un certo grado di pirofilia se non di vera e propria piromania in conclusione emerge dal colloquio una personalità molto fragile segnata da evidenti frustrazioni psicoaffettive priva di identificazioni positive con tratti ossessivo compulsivi e in taluni frangenti di stress psicofisico dall'incapacità di controllare gli impulsi ma Andrea quando ha ucciso era in grado di intendere e di volere i periti scrivono il Matteucci al momento dei fatti di cui sopra era per tali disturbi psicopatologici in tale stato di mente da scemare grandemente senza escluderla la sua capacità di volere ossia di liberamente autodeterminarsi preservandosi integra la capacità di intendere tali disturbi psichici persistono al momento dell'indagine peritale ed è verosimile che al di fuori di uno specifico trattamento psicofarmacologico e terapeutico essi continueranno a persistere per tempo indeterminato il Matteucci è da considerarsi persona socialmente pericolosa Andrea quindi deve essere internato e curato in una struttura psichiatrica il 16 aprile 1996 la corte d'assise d'Aosta dichiara Andrea colpevole dell'omicidio di Albana e del tentato omicidio di Lucy per quanto riguarda Clara e signor Domenico l'assassino è sicuramente lui ma non esistono prove che lo stabiliscano a parte la sua confessione viste le sue condizioni mentali l'avvocato ad Alizio che difende Andrea riesce a far accettare un ragionevole dubbio solo un omicidio quindi quello di Albana per cui Andrea viene condannato a 24 anni di carcere al processo d'appello però c'è un colpo di scena Andrea Matteucci viene riconosciuto colpevole di tutti e quattro gli omicidi gli viene confermato il vizio parziale di mente e la nuova sentenza lo condanna a 30 anni di carcere detto questo io ho finito di parlare in questo video spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso e di questo serial quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti perché sono curiosissima anche se sono consapevole che è un serial conosciuto comunque voglio sapere la vostra opinione e nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti